Quello che abbiamo visto quest'oggi sulle strade di Legnano è letteralmente clamoroso, una cosa che nel mondo del ciclismo professionistico non si vedeva da anni e anni. Il gruppo è stato doppiato e a riuscire in questa impresa è ancora una volta il fenomeno 21enne belga della De Sionique Q-Step, Renko e Venepul. Ancora una volta perché, come già detto appunto, nel ciclismo professionistico è una cosa che non si vede mai, mentre nel ciclismo giovanili, nelle gare juniores in Belgio, categoria dove ha letteralmente dominato a livello internazionale, è capitato più volte che Renko doppiasse il gruppo e addirittura chiudesse solamente lui la gara. In questo caso il gruppo è stato successivamente riammesso con appunto un giro di distacco, comunque una cosa assurda, si rischiava di avere solamente sei corridori all'arrivo e invece appunto la giuria ha deciso in un secondo momento di riammettere i corridori e di farli partire appunto un giro dopo fermandoli prima dell'ingresso nel circuito per consentire il passaggio di Renko e Venepul e degli altri cinque attaccanti che erano appunto al suo inseguimento e appunto poi far passare il gruppo però senza le ammiraglie che sono state fermate al passaggio appunto sulla linea d'arrivo. Una gara di 200 km, una classica che si svolge ormai da tantissimi anni, ha superato le 100 edizioni, una gara che è nel cuore perché diciamo è un po' la gara di casa, di casa mia perché l'arrivo è a circa 15 km da dove abito. Peccato non essere potuto andare perché appunto diluvia quindi sostanzialmente non ho deciso di non andare e avrei visto veramente un'impresa epica di Renko e Venepul perché ok stiamo parlando di una gara minore anche se comunque è stata vinta da Bartali, da Nibali, da Rick Van Loi, da Moser, insomma ha un albo d'oro veramente importante che quest'oggi si imprezzidisce di un altro possibile crack del ciclismo, un altro fenomeno appunto come Renko e Venepul, una gara di 200 km con la presenza di un circuito collinare in Valle Olona con la presenza appunto della salita del Piccolo Stelvio, della salita di Morazzone soprannata Piccolo Stelvio, una salita di 2 km con una pendenza media intorno all'8% e punte attorno al 12-13%. La fuga parte dopo solamente 65 km ma non è propriamente considerabile nella fuga come un attacco di corridori importantissimi perché al suo interno troviamo Thibaut Pinot, Samuele Battistella, Alessandro Covi che tanto ben si è comportato al Giro di Sicilia, Antonio Puppio uno dei corridori Under-23 più interessanti appunto per il ciclismo italiano, ma soprattutto la coppia dei Sioni Quick-Step con Fausto Masnada e Renko e Venepul. Dunque veramente una fuga pericolosissima che arriva a prendere intorno ai 4-5 minuti, sostanzialmente a un certo punto si vede che sarà la fuga a giocarsi la vittoria, inizia a balenare l'idea che forse il circuito finale di 5,8 km sia troppo breve per consentire a Renko e Venepul appunto di non doppiare il gruppo e quindi inizialmente la giuria prende la decisione di fermare completamente i corridori e al passaggio sulla linea d'arrivo di farli tornare sostanzialmente ai bus. Poi però cambia l'idea e decide di bloccarli prima dell'ingresso nel circuito consentendogli di ripartire appunto doppiati con un giro di stacco rispetto agli attaccanti. Nel frattempo Renko e Venepul aveva attaccato a 30 km dalla conclusione, ha staccato tutti di ruota in un tratto in pianura, come è solito fare, in uno dei suoi attacchi dove si mette davanti, inizia a tirare e nessuno riesce a stargli a ruota. Renko e Venepul che rapidamente va a guadagnare 30 secondi, un minuto addirittura sulla linea d'arrivo a 15 km dalla conclusione circa a un minuto e mezzo di vantaggio, conquistato in solamente 15 km rispetto agli ex compagni di fuga. Renko e Venepul che sostanzialmente fa una cavalcata solitaria, conclude la corsa con una media oraria molto elevata tra l'altro di 44,4 km all'ora, considerando anche le condizioni climatiche, la forte pioggia e dunque anche la difficoltà eventualmente in curva nel guidare la bici. Seconda posizione per Alessandro Covi perché nel frattempo Fausto Masnada, corridore appunto compagno di squadra di Renko e Venepul che ovviamente non aveva tirato, non aveva collaborato, era quello con più energie, ha scattato su un cavalcavia, su sostanzialmente un sottopassaggio, è riuscito a fare la differenza avendo appunto le gambe migliori, ma con lui è rimasto Alessandro Covi, corridore giovane di Taino della UAE Team Emirates che appunto è rimasto in compagnia di Masnada, Masnada ha tirato sostanzialmente da solo per conquistare un podio importantissimo perché avrebbe consentito alla sua squadra, la lezione in quick step, di portare due corridori sul podio, appunto uno sul gradino più alto e poi uno in seconda o terza posizione. Alessandro Covi che dunque vince veramente con facilità la volata, essendo anche molto più veloce rispetto a Masnada, per la seconda posizione a 1 minuto e 49 di distacco, terza posizione per Fausto Masnada, quarta posizione per Samuele Battistella, campione del mondo Under-23 ad Arrogate 2019, che chiude a oltre due minuti in compagnia di Thibaut Pinot che viene battuto nettamente in volata. Più staccato Antonio Puppio che si era staccato anche in precedenza sul piccolo Stelvio, salvo poi riuscire a rientrare prima dell'attacco di Renko e Venepul, che chiude a oltre due minuti e trenta, due minuti e quaranta di distacco dal fenomeno belga. Gruppo che dunque arriva oltre a dieci minuti di distacco, intorno ai quindici forse addirittura, con la volata che è stata vinta da un corridore della White Team Emirates in davanti a un corridore della Barriani CSF con la terza posizione, se non sbaglio, di Elia Viviani, che dovrebbe dunque concludere la top ten, ma insomma i giochi si sono fatti davanti e a fare la differenza ancora una volta è Renko e Venepul, che non smette mai di sorprendere, perché è chiaro, noi conosciamo le sue qualità, ma una cosa del genere, doppiare il gruppo in una gara dei professionisti è una cosa veramente impensabile e è un'impresa che a suo modo resterà in una storia, nonostante sia appunto una gara minore. E adesso vediamo, perché domani ci saranno Tre Valli e Varesine, dove Renko e Venepul sarà ancora una volta scatenato e proverà a fare il miglior risultato possibile, e poi il Giro di Lombardia, che potrebbe essere uno dei grandi obiettivi di questo finale di stagione per Renko e Venepul, che vorrebbe portare a casa la sua prima grande classica, tra l'altro a solamente pochi mesi, dal bruttissimo incidente l'anno scorso al Giro di Lombardia, dove rischiò addirittura la vita cadendo in un burrone nella discesa giù dal Sormano. Frattura del bacino per lui, tanti mesi di stop, è rientrato al Giro d'Italia, un rientro un po' sconsiderato, considerando appunto che non veniva, veniva da otto mesi senza salire in sella la bici, per quanto riguarda ovviamente le gare, e infatti al Giro ha fatto molta fatica, anche psicologicamente in discesa era molto impacciato, poi però ha ritornato, ha ritornato a vincere, ha ritornato a vincere bene a suo modo in solitaria, e quest'oggi l'ha confermato, e vedremo un po' cosa riuscirà a fare appunto sulle strade bergamasche del Giro di Lombardia. Comunque ragazzi, per questo è il video di tutto, evito a lasciare un commento se mi piace di iscrivervi sulle nostre pagina Instagram, noi ci diamo a un prossimo video. Comunque ragazzi,